Pandora. Pandora è un film drammatico del 2016 diretto da Jong-Woo Park, con Yin-Yong-Yung, Daimyo Kim, Jung-Jong Kim, Myung Min Kim, Nam-Jil Kim, Jung E-Mon, Shin Il-Kang, Yeong-Gae Kim. Trama. In una tranquilla cittadina della Corea del Sud viene costruita una grossa centrale nucleare. La centrale porterà alla cittadina elettricità e tanto lavoro per i suoi abitanti, ma anche molte preoccupazioni da parte di chi sostiene che l'energia nucleare è pericolosa. Un brutto giorno, un grosso terremoto colpisce proprio quella zona della Corea, e la centrale subisce grossi danni, tanto da costringere la popolazione all'evacuazione. Dalla centrale nucleare iniziano infatti a diffondersi delle pericolose radiazioni, ed inizierà una corsa contro il tempo per cercare di impedire la fusione del reattore, evento che avrebbe conseguenze disastrose per milioni di persone. Recensione. Pandora è un bel film sudcoreano, un film drammatico che tratta il tema della pericolosità dell'energia nucleare. Storia ben raccontata, con attori non sempre brillanti, ma nel complesso un film che si lascia più che guardare. Anche se all'inizio del film c'è il solito disclaimer sui riferimenti ai fatti accaduti nel film puramente casuali, CIT, si capisce benissimo che questo film è un omaggio agli eroi di Fukushima, che tra l'altro viene citata più volte nel film. Se quindi vi piacciono le pellicole che trattano i disastri prodotti dall'uomo, magari ispirati a fatti realmente accaduti, questa pellicola potrebbe essere anche catalogata come film su Fukushima, Pandora è un film che potrebbe piacervi.